ciao a tutti ragazzi ben ritrovati in un nuovo video oggi focus principale sul calcio mercato è vero voi mi direte ma come luca il 20 di gennaio 2022 come possiamo pensare al calcio mercato dato che tra una decina di giorni chiude sì però il mantra della juve in questa sessione è arriva qualcuno se esce qualcun altro e qui si sta parlando tanto di arthur come nome in uscita tra l'altro lo sappiamo ieri c'è stato un blitz di pastorello nella sede dell'arsenal che sta spingendo per spostare il suo assistito oggi voglio parlare di quattro nomi due sono centrocampisti due sono attaccanti in questo video trattiamo i centrocampisti ok rovella e zaccaria per il video in cui trattiamo anche i due attaccanti tocca a voi voglio vedere il vostro supporto il vostro calore quanti like quanti commenti lasciate per avere già oggi stesso è oggi stesso un episodio ricalcato esattamente come lo stiamo per fare ora sui centrocampisti ma il riferimento agli attaccanti quindi supportate questo video mandatelo agli amici mandatelo alla nonna alla zia al cane devono vederlo tutti perché se esce arthur i due nomi per l'ingresso sono appunto rovella e zaccaria poi alla fine vi dirò anche la mia opinione su questa cosa iniziamo subito guardando l'italiano chi è nicolo rovella beh lo conosciamo tutti gioca nel genoa quindi l'abbiamo visto giocare in serie a è un giocatore tecnico e di proprietà della juventus gioca anche nell'italia under 21 il numero 10 è un classe 2001 con 38 presenze nel maggior campionato di calcio italiano poi vediamo la scheda tecnica di rovella io questi dati li ho presi da instat finché ho la possibilità di accedere al sito li prendo volentieri possiamo vedere intanto la posizione la posizione che va a ricoprire in campo principalmente 59 per cento sta a centrocampo essendo un mediano 46 per cento sulla sinistra quindi un giocatore di piede destro che però gioca molto spesso spostato sulla sinistra è un mediano nel 72 per cento dei casi ma viene utilizzato anche come centrocampista centrale appunto come mezzala che può andare sia a destra che a sinistra anche se predilige la parte sinistra del campo è alto un metro e 79 però dobbiamo immaginarci un giocatore molto molto tecnico quando parliamo di rovella seconda scheda un po di statistiche questa sessione di serie a in questa stagione in serie a fino adesso 23 partite giocate 5 assist 4 cartellini gialli l'anno scorso 27 partite giocate 2 assist e 6 gialli e anche un rosso quindi un giocatore che non solo in impostazione ma è abile anche ad andare a contrastare ora lo andremo a vedere passaggi chiave per partita in media 0 6 un tiro punto 09 0 8 di cross 13 duelli 1.42 gli aerei quindi diciamo che non è proprio il suo pane quotidiano 2.2 dribbling e 4.3 contrasti tra l'altro dato in crescita sia dribbling che contrasti rispetto alla passata stagione e anche quello dei tiri quindi un giocatore che rispetto all'anno scorso sembra essere più all'interno della partita infatti fino adesso probabilmente uno dei pochi a salvarsi all'interno della stagione disastrosa del genoa abilità regia è infatti un giocatore che come vedremo è abilissimo nell'impostare lanci lunghi è una cosa che prova spessissimo abbiamo delle slide che ve lo dimostreranno contrastare lo dicevamo poco fa è un giocatore che ci mette anche la gamba pressing non è bravissimo nella finalizzazione non è bravissimo nelle letture difensive non è bravissimo nei tiri dalla distanza non è bravissimo nei cross lo fa poche volte un giocatore che predilige il lancio lungo piuttosto che il cross quando in quella posizione in cui deve crossare delle due magari allarga il gioco sull'esterno e fa fare il cross all'ala di turno e poi sotto abbiamo una valutazione che è stata fatta da chi ha analizzato Rovella e dice piede destro dinamico regia corta verticalizzazioni cambi di gioco conclusioni dalla distanza dribbling transizioni batte palle inattive perde palla se è pressato interdizioni contrasti soffre due lr non segue inserimenti lenti scivolamenti laterali poco abili in uno contro uno difensivo poi è ovvio che queste sono valutazioni soggettive di chi le ha scritte io ve le riporto per correttezza ora andiamo invece a vedere dopo aver analizzato un po di statistiche un po di caratteristiche quello che è Rovella in campo ho voluto selezionare questa slide perché è emblematica qua è appena iniziata la partita possiamo notare la disposizione dietro del Genoa ora non so bene se era 4 con un terzino un po più bloccato oppure se era 5 quindi sulla sinistra avevamo un giocatore che stava scappando questo poco importa probabilmente a 5 però vedete Rovella al centro della struttura del Genoa giocatore centrale che prova subito il lancio lungo dopo tre secondi proprio perché lo schema probabilmente questo qua palla Rovella che lancia sull'esterno di sinistra che va ad allungare giocatore che il lancio lungo ce l'ha lo prova poi non sempre viene devo essere onesto devo essere sincero non precisissimo ancora nei lanci lunghi però giocatore molto molto giovane soltanto 38 presenza in serie a caratteristiche interessanti quelle di Rovella voglio dirvelo da subito se devo pensare però al fatto che possa uscire Arthur per entrare Rovella se già sta giocando poco uno come Arthur che d'esperienza ne ha da vendere tra nazionale champions league barcellona serie a juventus devo entrare uno come Rovella il discorso è vado a far fare a Rovella semplicemente il vice locatelli e quindi vado anche interrompere un po il suo percorso di crescita secondo me ad oggi Rovella in questo momento non è pronto non è pronto per essere un giocatore della juventus e altri sei mesi a genova potrebbero fargli bene per poi tornare la juventus quest'estate proprio perché se devo prendere oggi un giovane che sta giocando bene sta crescendo bene è uno dei pochi a salvarsi in una squadra disastrata se lo metto a fare la semplice riserva di un giocatore molto importante della juve che quindi potrebbe non giocare mai non so quanto bene gli faccio è un giocatore interessante non ancora pronto secondo me da livello juve e che non andrebbe a crescere nei prossimi sei mesi quindi questa è già la mia opinione su Rovella giocatore molto molto utile ma attenzione poi qua lo vediamo una partita col verona qua parte dalla sinistra perché è interessante perché in questa stessa partita lo vedremo in più posizioni qua lo vediamo sul centro sinistra abbiamo visto prima la posizione che predilige però nella stessa partita va anche sulla destra qua un giocatore che si sposta anche lungo il campo e nella stessa partita anche per vie centrali quindi nella stessa partita stesso ruolo stessi compiti però vaga per il centro campo perché è il giocatore che tutti cercano Rovella è il classico giocatore che quando il compagno ha la palla va a passarla a Rovella proprio perché sa che la palla in banca e lui qualcosa può inventare poi abbiamo Rovella in apertura quello che vi dicevo prima quando ha la possibilità anche non lo so di provare un cross dalla tre quarti ora qua magari una situazione un po estrema però vede il movimento del compagno e cerca di servirlo in apertura proprio perché è più facile mettere il cross dall'esterno è più efficace anche se vogliamo solitamente i cross dalla tre quarti sono difficili per gli attaccanti più facili per i difensori quindi è preferibile allargare il gioco in questo modo e vedete che Rovella è sempre il giocatore centrale nella manovra del Genoa è sempre il giocatore che detta i tempi della manovra del Genoa poi andiamo a vedere i contrasti perché qua per dire Rovella va in scivolata ok tra l'altro dopo verrà fischiato fallo perché non prenderà soltanto il pallone però è un giocatore anche fisico che ci mette ci mette la garra ci mette non si tira indietro e non ha paura poi qua stavamo parlando di un Cagliari Genoa ma due a tre all'ottantacinquesimo quindi a maggior ragione devi proteggere quel risultato ci sta anche entrare duro magari prendere il giallo se non siamo unito per far passare anche un po' di tempo qua invece lo vediamo con la nazionale va in contrasto è un po' gracile Rovella è un po' gracilino in questo momento per essere probabilmente un giocatore anche preferibile da Allegri che solitamente predilige dei giocatori più fisicati ecco diciamo così quindi probabilmente qualche muscoletto potrebbe prenderlo però è un giocatore che va anche nel recupero palla utilizzando il fisico il corpo per dire qua Rovella fa un ottimo intervento sempre con l'Italia Under 21 bellissimo intervento va a recuperare palla non c'è in questa slide ma è una cosa che vi aggiungo io perché pochi secondi dopo aver ritirato recuperato questo pallone andrà ad impostarlo per vie centrali perderà il possesso del pallone e creerà un'occasione per gli avversari quindi è anche un qualcosa in cui deve migliorare lui principalmente proprio come giocatore perché ripeto le capacità ce le ha mi sembra ancora un po' presto per essere un giocatore da squadra molto molto importante e questa un po' era la ricostruzione su Rovella ma bene o male penso che Rovella potesse essere conosciuto non dico da tutti ma da tanti dato che è un giocatore che è entrato in nostro possesso l'anno scorso l'abbiamo acquistato esattamente un anno fa ricorderete tutto il discorso legato al valore del cartellino caos plus valence e robe varie però Rovella è un calciatore della Juventus parliamo invece di Denis Zaccaria ecco Zaccaria è un giocatore che invece conoscevo meno è un giocatore fisico a differenza di Rovella sono proprio gli opposti quindi capite che stiamo andando a cercare due profili differenti in caso di uscita di Artur è in scadenza di contratto e questo lo rende un giocatore molto appetibile gioca nel Morussa-Bunces-Glabac e nella nazionale svizzera lo sappiamo perché l'abbiamo anche affrontato con l'Italia è un classe 1996 con 5 presenze in Champions League che ha disputato in questa stagione a differenza di Rovella che preferiva stare sul centro-sinistra per vie centrali lui no lui sta in mezzo come potete vedere 54% centrocampo e 58% in mezzo è un giocatore che può giocare sia a 2 che a 3 nel centro-campo però lui principalmente è il classico mediano, il volante da inserire davanti alla difesa quel giocatore fisico da inserire davanti alla difesa che dà equilibrio che dà qualità ed equilibrio quindi è un giocatore molto allegriano se vogliamo perché è un giocatore che messo lì davanti alla difesa permetterebbe a Locatelli e a McKennie di diventare quelle due mezziali pure che fino adesso non sono riusciti ad essere anche complice il fatto che probabilmente Allegri non si fida ad avere Arthur davanti alla difesa proprio per mancanza di forza fisica non tanto di tecnica Arthur l'abbiamo visto in live su Twitch è il giocatore che meno palloni perde è il giocatore che addirittura nella propria metà campo è veramente difficile che perda palla ma non è in grado di dare quella copertura fisica che magari Allegri cerca in un centrocampo un metro e 91, 81 kg, piede destro mediano o difensore centrale in pochi casi probabilmente in emergenza può fare pure quello è un giocatore che quest'anno ha giocato 23 partite ha segnato due gole e un assist e sette cartellini gialli l'anno scorso 38 partite, un gol e un assist quindi già da queste statistiche capiamo che non è un goleador e non è un assistman non è il giocatore, non è il centrocampista che dici lo metto nel centrocampo e mi cambia il centrocampo ma ti può dare qualcosa per far valorizzare gli altri centrocampisti abbiamo visto che Locatelli e McKennie invece in zona gol qualcosa possono trovare quindi è il classico giocatore che va a pregnare quegli altri e che ti dà equilibrio alla squadra veramente secondo me è un giocatore ideale questo per Massimiliano Allegri 0-4 passaggi chiave a partita 1-22 tiri quindi un giocatore che comunque tira tanto per partita invece crossa poco 14 duelli, 2.4 duelli aerei, 3.4 dribbling e 3.4 contrasti ora io ci sono rimasto male lo vedremo anche dopo è un giocatore bravo nel dribbling bravo davvero nel dribbling contrasti io non sono d'accordo che sia eccellente nei contrasti qua viene utilizzata come abilità principale non sono di questa idea ma vi dico che è molto bravo nel pressing e nei raddoppi nei contrasti quando va lui e basta nei contrasti forse ancora un po' leggerino non ci va convinto tante volte ho visto che sono riusciti ad andargli via ma nel pressing è veramente eccellente e nei raddoppi di marcatura che è una cosa che noi facciamo spessissimo un giocatore anche bravo ad amministrare il contropiede un giocatore bravo a giocare anche di prima è un giocatore bravo nella regia diciamo prima ha un bel dribbling non è assolutamente un finalizzatore letture difensive non eccellenti ma eccellente sul recupero dei secondi palloni lo vedremo dopo passaggi chiave poca roba due leire qua c'è scritto che non è abilissimo ma abbiamo visto che è un Marc Antonio un giocatore importante che invece qualcosa può fare ci sono gli stessi appunti la stessa conclusione a cui è arrivato chi ha analizzato il profilo un po' come Rovella centrocampista difensivo si confermo molto alto potente long stride vuol dire lungo passo perché ha delle gambe molto lunghe che ricordano quelle di Paul Pogba quindi è un giocatore con le gambe lunghe è abile a recuperare i palloni proprio per questo buon salto non molto agile sì è vero è aggressivo in difesa organizzato buono nei passaggi di prima protegge la palla con il corpo lui può rompere le linee con i dribbling sì confermo è vulnerabile negli spazi aperti ora andiamo a vedere invece un po' di slide allora qua c'è Zaccaria come vi dicevo prima è molto bravo nei raddoppi infatti qua vanno in due su quest'uomo c'ho anche la slide successiva perché mi ha impressionato vedete come è posizionato in questo momento 31.17 sul cronometro dopo pochissimi secondi Zaccaria è davanti a questo uomo cioè prima era qui ok era dietro e poi si mette davanti all'uomo tra l'uomo e il pallone e col fisico lo protegge e nel raddoppio va a prendersi il pallone quindi veramente bravo in questo nella protezione del pallone con il fisico e nell'andare nel raddoppio per aiutare i compagni questa è veramente una caratteristica che nel nostro centrocampo intanto manca un giocatore alto un giocatore strutturato un giocatore che possa giocare davanti alla difesa con dei buoni tempi di palleggio con una buona regia e soprattutto abile nel raddoppio non ce l'abbiamo Bentancur non lo può fare Rabiot non lo può fare Locatelli sì è l'unico che lo sta facendo però poi lo perdi là davanti non è come Locatelli giocatore diverso Locatelli addirittura Zaccaria viene paragonato a Viera ora non esageriamo immagino come caratteristiche non come potenzialità voglio dirvelo subito non è un fenomeno Zaccaria non è un fenomeno ma è un buonissimo giocatore e che io andrei a prendere intanto perché è in scadenza e perché a gennaio può costare pochi soldi essendo in scadenza ma soprattutto io ragiono sul fatto che non ha molto senso cedere Arthur per prendere Zaccaria perché io sono dell'idea che Allegri non continuerà spesso con Locatelli e Arthur per una questione di caratteristiche dei due giocatori ma che possa volerlo fare in alcune occasioni e penso che aggiungere uno come Zaccaria bravo nell'impostazione possa essere un'ottima idea perché è ovvio che quando vuoi giocare con Locatelli e Arthur ma ti manca uno dei due allora l'altro è Bentancur o Rabiot e lo sappiamo che loro in fase dell'impostazione invece sono un po' difficitari quindi un altro giocatore bravo nella gestione il pallone ci può stare a maggior ragione dato dal fatto che in teoria Ramsey è un giocatore in uscita quindi esce Ramsey entra Zaccaria per me è un'ottima idea se devono uscire Ramsey e Arthur per prendere uno tra Zaccaria e Rovella invece vi dico ragazzi non è proprio il massimo vediamo vediamo qual è l'idea della Juventus vi dico che Zaccaria è un giocatore molto molto interessante qua va in scivolata è quello che vi dicevo prima lui nei contrasti ci va ancora un po' fragilino vedete qua le lunghe leve quanto sono lunghi questi gamboni che vanno a prendere il pallone l'avversario rimane in possesso della palla quindi è una cosa in cui devi migliorare in tantissime occasioni in tantissime azioni che ho visto fare in copertura a Zaccaria tante volte l'avversario comunque andava via forse anche per questo che viene spesso utilizzato nei raddoppi quindi non è il giocatore principale ma il giocatore che rimanendo in posizione e poi aiutando i compagni può dare quel qualcosa in più sul recupero palla qua infatti va in pressing qua contro il Manchester City secondo me dalle clip che abbiamo visto anche su Twitch Zaccaria diventa il giocatore indispensabile nel far perdere il tempo di gioco agli avversari e quindi riorganizzare anche la difesa o far arrivare altri giocatori in aiuto un'altra caratteristica che secondo me diventa importantissima nel nostro centrocampo qua eravamo in Champions League qua invece è il dribbling per farvi capire Zaccaria è passato in mezzo a questi due giocatori vedete i due giocatori in maglia rossa Zaccaria era dietro di loro era praticamente dove c'è il compagno in maglia bianca e in dribbling è riuscito a passare lì in mezzo Zaccaria è bravo perché riesce anche a dribblare di forza infatti qua ragazzi il suo avversario diretto è caduto perché lui con il dribbling grazie al suo corpo è riuscito a mantenere il pallone in possesso abbattendo anche l'avversario nella maniera più pulita possibile perché ha uno strapotere fisico incredibile e qua sguscia via Zaccaria riceve palla e sguscia via in mezzo a tutti questi avversari poi va ad aprire il gioco e si crea una buona occasione per la sua nazionale Zaccaria è il giocatore ovviamente in maglia rossa quindi un giocatore veramente con caratteristiche interessanti qua lo vediamo sulla seconda palla va a recuperarla subito un giocatore che sulle seconde palle è intelligentissimo perché arrivano quasi sempre in quella zona lì le può far sue qua sta allargando sta creando una nuova occasione per i suoi compagni quando in realtà l'azione era stata ormai conclusa con palla spazzata no lui si mette lì recupero sulla seconda palla ed ha ancora il via l'azione offensiva ancora Zaccaria sulle seconde palle questa arrivava direttamente dal portiere qua contro il Bayern Monaco addirittura in Bundesliga Zaccaria si mette lì la recupera ancora una volta no è ancora nostra continuiamo ad attaccare c'è ancora l'impeto c'è ancora la volontà di andare in avanti Zaccaria che spassa a protezione ancora una volta vi dico sui secondi palloni o sulle palle che arrivano in quella posizione lì molto molto bene quindi giocatore che potrebbe darci grande solidità a livello di centrocampo e poi in fase di impostazione perché come vedete Zaccaria è il vertice basso del centrocampo io immagino che in questo caso il centrocampo fosse a tre con i due giocatori davanti a Zaccaria contro il Borussia Dortmund in cui Zaccaria è il giocatore più arretrato del centrocampo e quello che si occupa della fase di impostazione ancora una volta Zaccaria vertice basso qua va in verticale per creare un'azione per il numero 14 qua la palla va al numero 14 poi il Borussia Mönchengladbach riesce a creare qualcosa di interessante quindi queste erano le slide inerenti a Zaccaria e Rovella io vi dico ad oggi fermo restando che sappiamo che Artur è in uscita io cercarei di trattenere Artur per insistere sul discorso legato ad Artur e Locatelli contemporaneamente alla Juve e andrei a prendere anche uno come Zaccaria che ad oggi può costarti veramente poco per darti un'opzione in più a centrocampo poi quest'estate è ovvio che andranno fatti dei ragionamenti andranno effettuate delle scelte in uscita anche sui giocatori come Bentancur e Rabiot che da tanti anni sono alla Juventus e fino adesso non sono ancora stati eccellenti però sappiamo che se riesce a creare un centrocampo magari a tre con due centrocampisti forti che possono essere Artur Locatelli Locatelli-Zaccaria Artur-Zaccaria ma lo stesso Mecchenni che può rientrare nella triade perché fino adesso abbiamo visto un giocatore importante quando c'è la necessità di far giocare uno come Bentancur e Rabiot che in questo momento sono dietro nelle gerarchie di preferenza non solo dei tifosi ma immagino anche quelle sportive di Allegri in generale possano rendere bene possano fare una partita fatta bene se il centrocampo poi è strutturato in maniera tale da permettertelo ma questo l'abbiamo visto tante volte con Allegri quando giocavano Lemina, Sturaro queste persone Hernanes però poi c'era un po' Ba, Chedira che davano quel qualcosa in più Marchisio stesso quindi non è tanto un problema del singolo nome quanto più creare un centrocampo che funziona con caratteristiche differenti nei centrocampisti e poi quando avviene il turnover avviene il turnover questo non è un problema ecco importante dare un'idea al centrocampo e aggiungere un giocatore secondo me in grado di trattare bene il pallone tecnicamente perché questo è quello che chiede Allegri sempre la gestione tecnica del pallone quando vai a impostare e Zaccaria mi sembra proprio il giocatore perfetto e che ci manca ripeto non fenomenale non aspettatevi Pogba non aspettatevi Vidal non aspettatevi Pirlo non aspettatevi Marchiso ma nemmeno che dire nemmeno Pjanic è Zaccaria ed è un giocatore che a gennaio potresti prenderti a poco occasioni di mercato sì lo è giocatore funzionale anche giocatore di livello lo scopriremo fino adesso sta facendo parlare molto bene di sé e per quello che ho potuto vedere mi sembra anche un giocatore pronto e ideale al contesto Juventus poi come possa adattarsi al campionato italiano questo è tutto un altro discorso le mie preferenze sono Rovella no in questo momento perché si rischia di bruciarlo e perché verrebbe a fare probabilmente il vice Arthur Zaccaria sì sia se esce Arthur perché magari Allegri preferisce un giocatore del genere io provo Lolin a maggior ragione io preferirei vedere Zaccaria arrivare con Arthur che rimane in rosa sapete bene io andrei a prendere un attaccante in questo momento per un discorso legato alla finalizzazione per un discorso legato all'infortunio di Chiesa ma se c'è la possibilità di far arrivare Zaccaria mantenendo anche Arthur devo dire la verità l'idea che un centrocampo che il nostro centrocampo finalmente possa assumere dei connotati normali mi stuzzica e quindi rinuncerei volentieri anche all'attaccante eventualmente per mantenere Arthur e arrivare anche a Zaccaria poi ci sono due attaccanti chiacchierati in ambito Juve e ve ne voglio parlare in un video esattamente come questo sta a voi dipende da voi fatemi sapere se volete vedere questo video oppure no